Eccomi qua Alberto, mi sono preparato alcune domande per te, vediamo un po' come reagisci. Allora domanda numero uno, preferisci dormire in una stazione ferroviaria tipo la stazione Termini oppure preferisci dormire nella camera da letto dove è stata trucidata una famiglia da un serial killer? Numero due. Ok, quindi non ti importa che nella stanza sia stato commesso un delitto efferrato. Bene. Vediamo un po', preferisci dormire nel pigiama, ovviamente lavato, stirato, insomma messo in ottime condizioni di Charles Manson o del mostro di Firenze, oppure raccogliere una moneta dalla strada e mettertela in bocca, senza lavarla. Pigiaama. Anche quello del pigiama, immaginiamo. Preferiresti conficcare il coltello nella foto della tua famiglia, in una delle foto della tua famiglia o preferisci mettere il dito in un vassoio pieno di scarafaggi? Conficcare il coltello nella mia famiglia? Vabbè, allora ti do una notizia Alberto. Tu sei un individuo razionale, quindi non sei prono alle pulsioni mistico-religiose o insomma all'irrazionalità in senso lato. Ma perché è rilevante tutto ciò? Ma è rilevante perché sostanzialmente due professori dell'Università di Chicago sono messi a analizzare il complottismo, no? Quindi sono messi a... hanno fatto delle... degli studi, hanno fatto dei sondaggi sulla gente e hanno trovato questa regola. Praticamente tutti quelli... C'è una fortissima correlazione. Tra quelli che credono ai complotti, non so, ai complotti sulle torre gemelle, sull'assassino di Kennedy, sui vaccini, su Soros, sulla sostituzione etnica compiuta attraverso i migranti, su QAnon, no? Sul fatto che Hillary Clinton, Soros, non mi ricordo chi altro, siano dei pedofili che compiono riti saranici in un ristorante di Washington. Insomma, la gente che crede a queste storie e anche da gente che ha un approccio di tipo emozionale alla vita. Cioè non vede il mondo come lo vediamo io e te attraverso la lente dei fatti, delle analisi, delle scelte basate sull'analisi costi-benefici, eccetera, eccetera. Vedono il mondo attraverso un insieme di elementi emozionali, insomma, illogici, come possono essere le profezie, i simboli, i miti, gli aspetti soprannaturali. Forse è da qui che vengono le ferrovie turistiche. Esatto! Evidentemente ci vuole una ferrovia turistica che vada a San Giovanni Rotondo, no? Perché, capito, così i pellegrini possono andare direttamente da Padre Pio e beneficiare della benedizione dell'alone di santità che pervade il monastero e tutto il complesso. No, ma, a parte gli scherzi, è una questione abbastanza interessante. Perché poi hanno fatto lo studio, no? Per vedere la distribuzione nella popolazione di queste credenze mistico-redigiose, superstiziosi, razionali, emozionali. E essenzialmente non è che ci sia gente completamente immune, no? Cioè, c'è tutto uno spettro di preferenze. Il 60% della gente è nel mezzo. Cioè, non è vero, ma ci credo. Questo atteggiamento, che poi è anche diffuso molto in Italia, no? di gente che va... Il sangue di San Gennaro non lo metti? Eh, il sangue di San Gennaro è nella parte, diciamo, tendenzialmente emozionale, mistico-superstiziosa. Ma lo stesso Padre Pio, come diciamo, come dicevamo prima, appartiene a quel filone. Poi, non parliamo di Gartomanti, il Mago Telma, un giro per l'Italia, poi ci sono tutta una serie di madonne, santuari, miti, leggende, che non salgono agli onori della cronaca, ma sono molto sentite a livello locale. E quindi, sai, il 30% degli americani, per esempio, crede di essere vicino all'Apocalisse. All'Apocalisse è descritta nella Bibbia. Nella Bibbia? Sì, sì. Ma poi, sai, non è che sia solo un fenomeno occidentale, ovviamente, se vai in India, ci sono questi guru, ci sono tutti questi santuari, ma anche nelle grandi città, dove la gente sostanzialmente si riempie la testa di viti e di superstizioni. Poi, uno da turista ci va e lo prende, non dica a ridere, ma insomma lo prende con un po' di grano salis. Ma c'è gente che davvero ci crede, Quelli che vanno, come si chiama, quello sai, Baba, no? Che con l'imposizione delle mani dava la sua benedizione, che tra l'altro poi non è stato anche... Ha previsto il Covid? No, hai ragione. Questa delle profezie, né Nostradamus, mi sembra, né i segreti di Fatima, mi sembra che... Contemplare. Sì, il Covid o una epidemia così devastante diffusa su tutta la Terra. Magari Nostradamus, sai, se uno si mette a cercare sicuramente trova qualche versetto che può essere interpretato in quel modo. Però finora devo dire che non ho sentito nulla. Magari se qualcuno che ci ascolta ha informazioni diverse ce le fa sapere. E... Il complottismo. E no, e quindi il complottismo sostanzialmente fa presa su queste persone che hanno una tendenza a osservare i fenomeni, a non capirli. Quindi la incapacità di capire fenomeni che sono poi di portata epocale, che hanno un'influenza diretta sulla vita di ognuno, genera ansietà. E quindi questa ansietà per sfogare questa ansietà, per trovare un minimo di sollievo, la gente si rifugia nelle teorie complottistiche, comincia a creare qualsiasi guiata e poi questo ha anche delle conseguenze politiche, perché ad esempio gli elettori di Trump, tanto da non far nomi, sono quelli che hanno una maggior tendenza ad essere così preda delle... la percentuale di quelli che hanno forti derivazioni religiose. Gli evangelici? Gli evangelici, è molto alta negli elettori di Trump, è molto presa e quindi c'è una spiegazione per cui ci può essere una tendenza così forte tra gli elettori di destra essere complottisti. Sì, ma tra l'altro poi questa questo elettorato mistico complottista ha sostituito soprattutto nel partito repubblicano i conservatori, insomma i repubblicani di tipo reganiano, no? Quindi c'è stato proprio un mutamento genetico nel partito repubblicano e oddio, non è che a sinistra diciamo sulla sinistra dello spettro politico questo non abbia avuto influenza perché anche lì poi chi parla delle che ne so dei complotti del capitale della finanza, no? Spielberg il Britannia il Britannia Sì, ma il Britannia sai è un come dire è un bersaglio sia della sinistra che della destra, no? Quindi in Italia poi il complottismo abbraccia entrambi gli schieramenti politici e si concentra sugli stessi bersagli, in America invece è un po' diverso perché c'è questa differenza molto forte tra appunto gli evangelici e i sanderisti, no? le due posizioni spesso non si non si sovrappongono. Proprio insomma questo quest'analisi delle origini del complottismo del dell'habitus mentale che lo lo assorta dalla estrema religiosità con derivazioni fondamentalista dici tu? Da lì viene il complottismo, da lì è più facile che si alimenti il complottismo. Sì, ma se se ci se ritorniamo un attimo sull'Italia, no? Pensa al fascismo. Ok? Il fascismo nasce per esempio dalla mistica della vittoria mutilata, dal tradimento degli alleati che non ci hanno voluto dare viste la Dalmazia. La mistica del fascismo che è piena di simboli romani ma anche di tipo diciamo più moderno e meno simboli orientati a creare nella mente delle persone semplici un'attrazione. Il nazismo peggio ancora. Il nazismo è un'ideologia che ha sfruttato in modo pesante l'aspetto mistico simbolico. C'è tutta una letteratura sul misticismo su cui si fondava il nazismo e anche lì l'antisemitismo che cos'è se non una forma di complottismo su scala nazionale. poi ha assunto un complottismo che ha assunto a politica di sterminio del governo insomma di ideologia di Germania persa la guerra a causa del tradimento degli ebrei no? Esatto quella era la narrativa che c'erano proprio le vignette in cui si vedeva l'ebreo col naso adunco che pugnalava le spalle il soldato tedesco in frincea quindi complottismo simbolismo attribuzione di colpe al diverso vittimismo accuse di tradimento che poi sono le stesse cose cioè ecco se le trasli ai nostri giorni cioè l'Europa che ci lascia solo sui migranti che non ci dà i soldi che ci impedisce di crescere il brodo di cultura di questa del complottismo del vittimismo del misticismo delle superstizioni salta fuori in tempi di crisi in tempi di crisi profonde quindi è stata abbastanza interessante questa questa diciamo così analisi sociologica socio-antropologica devo dire fatta da questi due professori dell'università di Chicago la mia madre e proprio insomma mi ha convinto abbastanza per questo dovremmo fare dovremmo fare il test devo prendere proprio il paper e vedere quali sono tutte le domande che hanno fatto per individuare le paturnie complottiste della gente magari la prossima la prossima volta lo faremo ciao Alberto alla prossima ciao 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 Grazie.